Questo è il risultato di tanto lavoro sostanzialmente, in cui pian pianino dall'analisi, dalla diagnosi su quelli che erano tutti i meccanismi e le procedure per cui si rallentavano poi la utilizzazione dei fondi comunitari abbiamo individuato dove era il problema che era nella carenza di personale della regione siciliana che deve visionare e lavorare numerosissime pratiche. Quindi l'impresa che ha vinto un bando, che ha partecipato a un bando, può utilizzare a questo punto gli ordini per snellire le pratiche in modo da non subire il rallentamento che normalmente avverrebbero con la pratica nel Dipartimento. Questo lo abbiamo fatto prima con le attività produttive, lo abbiamo sperimentato per oltre un anno e mezzo. I risultati sono eccellenti, ce lo attestano sia le aziende che il Dipartimento. Oggi abbiamo firmato, è un momento storico importante, abbiamo firmato e seglato lo stesso accordo con il Dipartimento Agricoltura. A presto lo faremo anche con il Dipartimento dell'Energia. Tutto questo perché in questi anni velocizziamo la spesa, riusciamo a portare i fondi della comunità europea perché si tratta di far incontrare i fondi della comunità europea con le aziende e col territorio. Questo stiamo facendo, è il nostro dovere. Quindi possiamo dire che stiamo cogliendo appieno il senso del dovere della Commissione comunità europea. L'azienda che deve ricevere queste provvidenze da parte della comunità europea si rivolge al commercialista di fiducia, al revisore legale di fiducia. Il revisore legale ridice una perizia giurata nella quale certifica le spese sostenute, le attesta e in questo modo la Regione anticipa fino al 90% delle spese effettuate. Un risultato straordinario che dimostra come questa sinergia può contribuire a migliorare la spesa sotto l'aspetto qualitativo ma soprattutto consentire alle imprese di non avere mille difficoltà e poter ricevere i soldi immediatamente. Ringrazio l'assessore Scilla, ringrazio il presidente della Commissione e l'onorevole Compagnone, ringrazio anche i miei colleghi che oggi si sono collegati dal remoto. Tutto questo porta davvero a uno svolgimento e un'istruttoria delle pratiche in modo più certosino e veloce.